Il Presidente Nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia nella sede salernitana promuove il Parco archeologico di Pestum in materia di raccolta fondi e rapporti con il territorio. Boccia ha elogiato l'operato del parco guidato da Gabriel Zuchtrigel. L'accordo con il Parco archeologico di Pestum testimonia ancora una volta che quando entrano in campo bellezza, equilibrio e tradizione entra in campo l'Italia. Il Presidente Boccia ha poi aggiunto, con il conferimento dell'autonomia finanziaria e gestionale al Parco archeologico di Pestum, in tre anni Zuchtrigel è riuscito a raccogliere fondi privati per un importo totale di 300.000 euro, di cui 170.000 negli ultimi 12 mesi per restauri e ricerche. Tre anni fa si iniziò da zero, conclude Boccia. È un grande segnale per lo sviluppo culturale ed economico di un meridione ricco di eccellenze.